Scusa, ma sono in macchina perché vado a Coverciano, allora... Stai andando a Coverciano? Sì, perché mi trovo fra mezz'oretta o Bergomi. Scegli lì bene per domenica sera. Numero 1 e numero 2. Cioè, penso a suo punto, penso da quello che è il Val di Pisacresa. Il Val di Pisacresa. Sono il numero 1 e il numero 2. Sì, certo. È il numero 1 degli arbitri. Sì, speriamo che ci calchi questo sorteggio del cavolo, che ci calchi il numero 1. Lì non devono fare sorteggi, lì devono... Come si fa, avevi già citato. Purtroppo ci vuole fortuna lì, perché si dico la verità. Qui il sorteggio lo fa un giornalista. Devono studiare una griglia dove le possibilità sono più alte. Però... pronto? Pronto? Sì, scusami. Eh, non so. Eh, è così. Il problema è che l'unica cosa, ora devono studiare una griglia dove le possibilità sono più alte per lui. Ma sì, mettono De Santis, che ha già fatto la Juve Domenica e non può. Mettono Rosetti, che è di Torino. Ma devono lasciare un campo aperto di almeno un 50% per quello che è scritto nel regolamento, mi sembra. Devono lasciare un campo di guabilità almeno di un 50% da quello che ho capito per il regolamento. Eh, perché non possono forzare con le preclusioni. Almeno un 50% di possibilità, mi sembra, che è scritto sul regolamento. Ora, dopo ne parlo con Bergamo. Ma va bene. Va bene, va bene. Senti, allora per Conte Eugenio li lascio al 5. Conte Eugenio, sì, 2. Al 5, va bene? Al numero, al cancello 5. Sì, poi c'è qualcosa per domenica, quando arrivano l'aria, lo dici di… Sì, al cancello 5 trovano una butta a nome di Conte Eugenio. Al cancello 5.